Metro City, questo qua è Final Fight, Street Fighter tra l'altro, c'era scritto là, Street Fighter fa parte dell'universo di Street Fighter, ci sono pure combattenti a volte che sono stati inseriti, lui è il sindaco, Mike Edgar, è tipo Gif, Zangief, faccendi la TV, I enjoyed the opportunity, listen to reason, man, if you let us please like payor for your teeth, Capcom, guy, Jessica, Jessica, my sweetheart since childhood, the male girls must pay, she's my sweetheart too, count on me, e là erano Cody e Guy, Guy, Cody, Agar, iniziamo con Guy, dai, Alcune diverse cose compagnie anche nello story mod, mod di Street Fighter 6, andiamo per appunto, è condiviso l'universo. Oh Dio! Dai, Guy! Oddio! Eh sì, vabbè. Oddio, cosa ho fatto? Spacca tutto, Guy! Spaccato malissimo. C'è 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 c' Uh, che figo cosa ha fatto. Eh, bastardo. Ma come va a coltella, no? Casi si vorrei questo. Vai, Cody. Andiamo un po' con Cody. Lo so che mi piace molto in Starfighter. Oh! C'è Poison! No, è Roxy, non Poison. Vabbè, Poison era una di queste qua. Roxy è la sorella, o comunque... ...una di quelle là. ...un però non è molto più di più di più di più di questo. mamma mia poi sono un personaggio iconicissimo oh shit ah Andor quello là è Andor Junior perché poi ci dovrebbe essere Ugo che credo fosse Andor però sono fatto il primo Final Fight madonna quanti sono Andor bitanca il mondo vai agar e poi i suplexoni no Andor ha rotto le palle che non mi pare sia mai stato giocabile in uno Street Fighter agar ma probabilmente perché pensano che venga troppo simile a Zangief mentre Gaia e Cody si anche più volte è giocabile se non sbaglio Gaia e Cody da Alpha poi ci sono anche in Street Fighter 4 è in Street Fighter 5 però perlomeno vedremo poi in Street Fighter 6 come stanno gestendo le uscite dei personaggi non mi sta piacendo si fa per sé con quei coin di merda non mi sta piacendo non mi sta piacendo ma ti vorrei un attino mettermi ci quando ho un pochino di tempo libero oddio c'è un ring quanto vi siamo oh Dio Sodom Sodom giocabile come oh l'uomo bellissimo Sodom è un personaggio giocabile in in Street Fighter Alpha credo in nessun altro Street Fighter ma pensavo fosse un boss di 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 non lo sapevo eh vabbè che cazzo che cazzo che cazzo che stronzo round clear vabbè classico stage su Street Fighter pure c'è che cazzo 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 bella lì west side io gli stutto la macchina certo quello per quanto andor dovrebbe essere ugo street fighter E' madonna, i boss. E credo sia stato giocabile se i fighter è solamente nel 4. Non vorrei sbagliarmi, ma credo di sì. E' il Gado. Sarò andor giù, no? Bong V. E' il Gado, ma c'è un po' di sublex. E' madonna. Buu, madonna, c'è un po' di bada. Ah, ma l'ho preso qui. G, Andor, F, quanti cazzo di Andor ci sono? Ah, ma l'ha fatto lui e me. Che cazzo è fatto? Vabbè, 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 fanno loro. Adesso va più nessuno avanti, eh? Ma lo so, il Gado. Il Poison arriva. E quell'altro sono mosse che c'è proprio su Street Fighter. Ma l'ho preso che parla, Wabbè, vabbè, 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 vabbè… Ti c'è sì, c'è sì! Eh! Eh! guardalo ciupì oh tra l'altro hanno fatto anche un picchiaduro di penal fight su saturn e vabbè ma che è mentato in loop ma non è granché da quello che so perlomeno questo poliziotto corrotto ovviamente perché figuriamo minchia quanto è stronzo sto poliziotto c'è un range allucinante questo manganello vabbè mi spara pure oddio santo vai agar facciamo io a fare il driver e anche qui l'abbiamo fatta andiamo ad uptown o no a industria l'aria la resa è bellissima oddio una fatta non prendere non lo so anche a portello non prendere non lo so vai spamma spamma quasi ah tra l'altro lui, Agar è il sindaco di Metro City e nel 5 si scopre che quello che è diventato sindaco dopo di lui è Cody mi spiace Poison ma quale cose vanno fatte oddio santissimo madonna santa che bordello che diventa l'ho lasciato lì anche se non l'ho distrutto oddio le bomba perché uno dell'invincibilità è vero una cosa però che non ho provato se ce la faccio a provarla no, mica che non posso fare quello pazza my god oddio è Rolento è Rolento pure personaggio giocabile mi pende sembra sia anche in alto oltre che si vede a 4 bastardissimo tra l'altro è fastidiosissimo Rolento cazzo ma non so se fossero botti per non fai è la madonna c'è meno cazzo ma non so se fossero guardalo guardalo come non si fa ma non ci posso credere stronzo vi faccio un paio driver si è distrutto da solo si è scoppiato da solo brick glass è un buon stage gg bay area è più non c'è di quanto immaginassi la fai non credo ci sia un moderno Final Fight o sbaglio Reads of Rage si l'ho pure giocato bellissimo ma moderno Final Fight mi sembra di no vai da sto gara eh sì vabbè oh la madò ok oggi ne sono vieti altri l'ha pensato la viene sempre quello più forte via sono più fastidio a dirti qua eh sì eh sì pure madonna come mi mangi i gettoni poison e roxy ok Grazie a tutti. 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 Stipi romani. Grazie a tutti. 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 Il salto è troppo forte. è proprio necessario. Ascensore. Grazie a tutti. madonna. ma il palazzo finisce mai Ok, ho fatto malissimo. Ok. Nooo, mi stavo per curare. Che sfiga. Spaccagli la porta. Boh. E che volo che ha fatto quello. Poi mi ricordo, adesso non so se era una leggenda metropolitana o se è vero, dovrei andare proprio a leggere sul libretto di istruzioni. Ma se non so se è vero, sui libretto di istruzioni di Final Fight c'era la cosa che... Avevano messo che Poison e Roxy fossero... Cioè fossero i... Facendo intendere che fossero uomini... Perché non si potevano picchiare le donne, non lo so in America e cazzo, non so una cosa del genere. Però magari avevo capito male. Però c'era una cosa del genere quello che avevo avuto in giro. Infatti c'era molto la controverse che... Era così o non era così... Buh... Ma non lo era. No, ancora con ilо, avevo lotto in giro. Noh, non si aveva rischiato. Non si parla. Almeno normalmente hanno preso pure loro, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma se ho ancora un momento bloccato non puoi fare altro che questo. Begum. 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 Eh dai! Begum. 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 Peccatoia. Si rispondono pure questi piccolini. Begum. 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 come siamo qua però il post fight invece no mi permette di distrarre e a rinunci prima in quel momento retta no no eccessivamente troppo che è rimasto angolo un po così dai perfetto cura quindi boh oddio belger sulla sedia a rotelle tra l'altro con la team oddio non si è piaciuto la sedia a rotelle ah ma era un falso invalido non gli posso fare una combo ma che sono uscito a fire tipo lì a terra jessica io ho pericato di darmi direi che andato a finire male jessica oh padre ero così spaventata sono così felice di vederti di vedere che non ti hanno fatto del male mi dispiace jessica pensavo di averti persa come ha perso tua madre ma farò in modo che non ti accada niente di male di nuovo più niente di male ti amo papà e loro due invece se ne vanno per i cazzi dove insomma hanno aiutato agar però erano giusto gli aiutanti di agar se fanno se la fanno tutta a piedi la ha i nomi tutti inventati nickname cavolo non l'avevo mai giocato final fight e ora almeno so anche delle cose che non lo so perché non sapevo oddio Cody ah giusto Cody c'è la cosa con jessica dove stai andando come puoi andartene via adesso voglio stare qui con te jessica ma non posso non mentre il male l'urca ancora nelle strade c'è ancora nelle strade oh Cody e da bacino